Io sono una tifosa romanista da tanti anni, però questa volta devo ammettere che la Lazio è più forte di noi. Ci vorrebbe solo un miracolo, tipo quello di Djordjevic, quando con un solo tiro ha preso due pali. Vince la Roma 3-0, almeno è quello che spero più che altro. Chi vince il derby? 2-1 per la Roma. Un pareggio. Roma. Mi dispiace tantissimo per i tifosi bianco-celesti, ma il derby finirà 2-1 per la Roma. Passeremo i svantaggi, ma dopo segnerà l'eroe che non ti aspetti. Joan Iturbe. Temo Totti, alla fine temo sempre lui, perché essendo uno di un giocatore di Roma sente molto il derby, quindi sì, lo temo. Mi pare chiaro che la Lazio è più in forma, attraversa un periodo molto migliore. Lazio. Allora, un saluto agli ospiti, studio e ai telespettatori della Signora Ingello Rosso. Per me il pronostico per il derby è 2-1 per la Roma. Il pronostico, dai, vince la Lazio 2-0. Per la Roma Totti, per la Lazio forse Filippo Anderson. Spero che vince 3-0 e che segna Totti, che so, gli è molto antipatico ai nostri amici laziali, quindi mi auguro questo. Guarda, la speranza è che vinca la Lazio, anche se secondo me però finirà in un pareggio. In un pareggio perché secondo me potrebbe esserci anche un piccolo accordo, perché potrebbe andare bene a tutti e due il pareggio. Anche perché la Lazio, secondo me la Lazio arriva terza, noi pareggiamo il derby e andiamo a vincere a Napoli. Doppietta di Djordevic. Filippo Anderson. Ma basta che vince, può vincere anche 2-0. Secondo me saranno ancora più motivati contro la Roma, almeno credo. Chi vince il derby? Lo vince la Roma? Chi 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 vince la Roma? Grazie.